Ciao ragazzi, oggi video sui 5 prodotti top che sto utilizzando in questo periodo Tempo fa ho riscovato dalla cassettiera un prodotto che ho acquistato tempo fa però non l'ho utilizzato tantissimo Ed è lei, Light Transformer di ELF Praticamente questa è una palettina, non so se esiste ancora sul sito della ELF Che permetteva di cambiare il colore, il finish dei vari ombretti Purtroppo sembrano 4 colori bianchi ma non è così Praticamente questi qui sono i colori Purtroppo sembrano tutti bianchi ma non è così Per me è una palettina davvero molto molto carina Praticamente sono ombretti bianchi con perlescenze azzurre, verdi, oro e rosa Ad esempio sull'arcata sopraccigliare e vicino al condotto lacrimale Ho utilizzato l'ombretto con perlescenze rosa E insomma le sto utilizzando sia come ombretti che come punti luce che come illuminante Insomma l'ho riscavata fuori dalla cassettiera perché in verità non l'ho mai utilizzata L'ho utilizzata davvero pochissimo e la sto utilizzando come ombretti Perché a cambiare il finish degli ombretti ci vuole un pochettino di tempo Magari quando si ha tempo la si può utilizzare anche per questo motivo Io mi ci sto trovando divinamente ad utilizzarli come ombretti, come illuminanti, come punti luce Mi ci trovo davvero bene E' una palettina secondo me sottovalutata Perché comunque purtroppo dalla webcam non rendono Però sono degli ombretti che hanno Io che mi gratto la schiena Sono degli ombretti che hanno davvero delle perlescenze molto molto belle Metalliche con l'oro, il verde, il rosa, l'azzurro Sono comunque molto molto carini e come potete vedere dagli swatches sulla mia mano luminosissimi Quindi è un prodotto top che ho riscoperto e che avevo buttato nella cassettiera e utilizzato pochissimo Poi un altro prodotto top che ho ripreso dalla cassettiera E' questo mosaico di NYX che mi ha mandato l'azienda Ed è lo 04 Pici E adoro questo blush di NYX Ha un colore come potete vedere sul marroncino Aspettate che ve lo prendo bene Questo qua è il colore Come potete vedere E' un colore molto molto naturale Io lo adoro Soprattutto se si fa un trucco bello intenso sugli occhi Si può insomma attenuare il tutto con un blush molto naturale E magari usare anche sulle labbra Non vi nascondo che a volte faccio dei trucchi belli carichi sugli occhi Utilizzo questo per attenuare un pochettino la base E poi carico anche le labbra Cioè perché comunque mi piace l'effetto Lo trovo molto molto bello e duraturo come blush E questo qui è una confezione da 12 mesi di scadenza E non vi so dire la quantità però di prodotto Ha 5.7 grammi di prodotto Questo è il linci Ed è molto molto carino Lo fa anche in altre colorazioni A me è stata mandata una tra le più chiare Poi un altro prodotto che sto amando Allora è la combo Non ho rispettato i 5 prodotti Però insomma ho un prodotto bonus Ovvero la matita questa qui di Essence Che è la Red Carpet se non sbaglio Ah no la 10 Femme Fatale scusatemi Che ha questo bellissimo rosso matte E il rossetto che mi è stato regalato per il compleanno Di questa marca qui La Rouge Bezier Il 602 matte Ed è questo rosso A parte il packaging che io amo Ed è questo rosso bellissimo Ve lo metto vicino alla matita Non è proprio uguale rispetto alla matita È più aranciato il rossetto Però è molto molto bello Poi una volta insomma applicato il rossetto Non si nota Vedete È di un tono un pochettino più freddo La matita di Essence Questo qui è un rosso caldo Che vira all'aranciato Ed è super super duraturo come rossetto Pure essendo matte non secca le labbra È davvero ottimo Non vi so dire il prezzo Perché comunque è un regalo Però davvero ottimo È una marca che potete trovare in farmacia E ha una scadenza di 24 mesi Ed è troppo troppo bello Bellissimo come colore Molto molto bello Io l'ho adatto a quasi tutti i tipi di trucchi Ovviamente dipende Cioè per esempio Ora che ho questo rosa non lo metterei Però con il marrone, il nero, l'oro Ci sta d'incanto Questo rosso qui E poi come altri due prodotti Sto amando Questa combo Ovvero Il fondotinta 24 ore di Maybelline Lo Superstay Con il correttore Se penso che state ancora in tempo Lo potete trovare in offerta Da questa pone A 9,90 euro Insieme al correttore Che ve lo regalano È davvero un ottimo fondotinta Non è pesante Non è pesante Si stende bene Ha un'ottima coprenza Ha un effetto cipriato sul viso Dura tantissimo E anche il correttore Mi piace moltissimo Copre bene l'occhiaia Non entra nelle pieghette Si stende facilmente È un prodotto davvero molto molto valido E sinceramente Mi sento di aver fatto un affare A solo il fondotinta Costerebbe 15 euro Io l'ho pagato 9,90 euro Con il correttore Full Sight In omaggio Quindi Per chi ancora Non ha acquistato Questo fondotinta Ha bisogno di un fondotinta Coprente Effetto cipriato Duraturo Resiste Anche all'acqua Al sudore Non ostruisce I pori Questo è vero Non fa un effetto grasso Almeno sul mio tipo di pelle Che secca Non ho notato Niente Nessun difetto Sinceramente Di questo fondotinta Forse è un pochettino Troppo liquido Quindi bisogna dosarlo bene Vi faccio vedere Vedete È un pochettino liquido Però se voi Lo andate a dosare bene È molto Molto facile Da Da stendere La stesura Proprio ideale Per questo fondo È La spugnetta Tipo la beauty blender Io L'altra sera L'ho steso Con la beauty blender Anziché Il pennello Di realtech Knicks E mi ci sono trovata Divinamente Un effetto Naturalissimo Coprente Allo stesso tempo Davvero Buonissimo Questo Vedete È il fondotinta È anche Luminoso Si può dire Da un effetto luminoso Al viso Molto Molto Bello E questo È il fondotinta Insomma Steso Farvi capire Rispetto La mia mano L'altra mano Che non ci ho messo niente Qua c'è il fondotinta È molto Molto Luminoso Come Effetto Bello Mi sento di consigliarvi Questo fondotinta Perché è davvero Molto buono Soprattutto per chi Vuole un fondotinta Coprente È duraturo Ma soprattutto Leggero Mi sento davvero Di consigliarvelo Io l'ho preso Nella tonalità 30 Sand Sand Ma C'erano disponibili Anche altre Tre colorazioni Una molto Molto chiara C'era questa C'era una Intermedia E poi c'era una Molto Molto scura Non c'è una grande Varietà Di colorazioni Perché tutte Hanno un sottotono Rosato Non hanno il sottotono Giallo Che insomma Fa parte del mio incarnato Infatti io pensavo Che avesse un sottotono Giallo Ma in realtà Il sottotono Di tutte le colorazioni Disponibili In Italia Sono Il sottotono Il rosa Non si nota molto Perché Si uniforma Perfettamente Col vostro incarnato Quindi Un punto ancora A favore Di questo fondotinta Niente ragazze Questo video È davvero Super super veloce Per farvi vedere In questo periodo Quali sono stati I miei prodotti top In particolare Magnifica scoperta Magnifica riscoperta Perché io non l'ho mai denigrata Questa paletta Anzi Sin dai primi video Ho sempre detto Che è un prodotto Sottovalutato Da tutte le ragazze Che la posseggono Perché magari L'acquistano Come ho fatto io Non ci sono sincera Per cambiare colore O finish Agli ombretti E si scocciano Di fare questa operazione E poi Insomma Non l'hanno provata Per altri scopi Come illuminante Come ombretto Per esempio Ho provato Una combo Bellissima Ovvero L'illuminante Con l'oro C'è questo qui Che purtroppo Sembrano tutti uguali Dalla webcam Ma sono Tutti colori Per le scienze Verdi Oro Rosa E azzurre Non so come farvela vedere Forse da qua Così si vedono Comunque L'oro Che è questo qua Con Il Il coroste Cioè L'ombretto in crema Di Rimmel Quello lì Color top È qualcosa di bellissimo Infatti ho pensato Quasi di farvi un tutorial Perché ne vale Davvero la pena È qualcosa di bellissimo Devo vedere Attraverso le luci Se rende Sennò vi metto la foto Come ho fatto Con Con gli swatch Della palette Della Pretty Rebels Che ci sono riuscita E anche la foto Del trucco E niente ragazze Vi mando Un bacione E ci vediamo prestissimo Nel prossimo video Ciao